Ritiro abruzzese che ha rispettato ogni aspettativa con la Napoli Gattuso abbracciato da tifosi e curiosi. Settimana fruttuosa in una prima esperienza che sicuramente avrà seguito. A Casteldisangro gli azzurri hanno trovato tutto ciò che aspettavano. Ultima amichevole contro il Terramo di Massimo Paci sconfitto per 4-0. A trascinare i partenopei il gioiellino e fiore all'occhiello del mercato, il nigeriano Shimen che ha siglato una tripletta al quarto 61esimo e 65esimo mentre la quarta marcatura è stata siglata da Lozano. I biancorossi, seppur al cospetto di un Napoli con ben 13 giocatori impegnati con le varie nazionali, non hanno sfigurato mettendo in mostra buone individualità e sfiorando anche il gol della bandiera. Per il Terramo subito un test probante contro la Roma primavera presso il Bonolis. Dunque il lavoro degli azzurri si chiude in Val di Sangro dopo 11 giorni di allenamento e con un arrivederci all'anno prossimo.